La Pasqua ci assicura che, nonostante tutto, la vita prevarrà ed è destinata a rifiorire la gioia e l'incontro tra di noi. L'arcivescovo, ma anche il sindaco, ci invitano ad abbellire la città, ad abbellire tutti i nostri paesi, addobbando i balconi, le finestre, ma anche le chiese, i campanili, le torre, con gli antichi addobbi, ma anche con bandiere, drappi colorati, soprattutto i disegni dei bambini, risorge il Signore e risorge la vita. Grazie a tutti.